Bella a tutti ragazzi, siamo solo in due perché non ce n'è ancora a bordi di nuovo perché in questi ultimi giorni ha degli impegni scolastici. Volevo dirvi che questo è il video dello speciale 500 iscritti, grazie a tutti per la vostra iscrizione, fate ancora girare voce, fateci crescere, che a noi ci piace e spero piaccia anche a voi. In questo video volevo farvi vedere tre cose che non sapete di noi e in più farvi un annuncio importante. Partiamo con le tre cose, la prima è la nostra più grande paura, parte Franklin con la sua. Io ho paura dei cani, grossi, piccoli, medi, tutti, tutti quelli che iniziano a ricordarti come i dilpagliacciu. Ecco la mia paura più grande è che sono i clown, ho questo terrore qua da quando ero piccolo e non lo so, poi avete sentito una della voce che sta girando adesso no? Andiamo al circo. Fateci sapere se anche voi l'avete sentita questa voce e scrivetelo nei commenti. Seconda cosa è il videogioco che ci piace di più, il tuo? FIFA, ovviamente FIFA, 15, 16, tutti i FIFA che usciranno, quelli che sono già usciti tutti i FIFA. Il mio invece credo che sia Watch Dogs che è un altro videogioco di cui prima, il prima possibile vi... Arriva tra poco il video di Watch Dogs. Ecco. Quindi state in giro. Il prossimo video in arrivo lo ricominceremo da capo, poi decideremo se fare le missioni secondarie o le principali. O scazzeggio proprio. Ecco. Terza domanda è se siamo cresciuti con PES o con FIFA. Io sinceramente ho fatto due anni a comprare PES, sì, due anni a comprare PES e il resto ho preso FIFA. Perché PES dopo un po' ho visto fatto. Io ragazzi invece c'è... FIFA mi ha trattato quindi da subito PES. Io proprio ho iniziato tipo quando avevo otto anni, no? A giocare ai videogiochi di calcio e i primi due erano di PES. Poi ho iniziato FIFA, solo FIFA. E comunque sì, sì, sono cresciuto con PES io. Un annuncio importante adesso ragazzi è che purtroppo aveva messo la rotta di Vision One numero 4 e numero 5 sul computer. Gli stavano modificando? Tagliando e roba del genere. A un certo punto però il suo computer si cresce proprio, non va più niente. Non va più niente. Allora, cioè non andava più, per tipo due giorni è stato così guardendo. Neanche con controlla il cancio, né niente. L'abbiamo lasciato lì attaccato alla spina, infatti per due giorni finché aveva la batteria è sempre stato lì. Abbiamo tolto la batteria, ma niente. E quindi ragazzi abbiamo perso tutti i file, ho perso tutte le mie cose personali. Abbiamo perso proprio tutto e quindi la serie la rifaremo da capo. Intanto ho sento qualcosa che non so cosa sia. C'è il vicino al bambino che sta... Sì, il vicino che sta usando la motosega. Oddio. Oddio il clan con la motosega. Ok. Cagliare. Cagliare. Beh ragazzi volevo dire che comunque abbiamo deciso quindi di andare avanti con la rotta di Vision One senza registrare. E nel prossimo episodio ricominceremo dalla stagione che viene. Che non vi diremo quale, se è la 7, la 8 o la 9. Ma lo scoprirete nel prossimo video. Bella tutela. E comunque l'ultima domanda era se preferiamo PlayStation 4 o Xbox One. Ovviamente la 4. Anche secondo me la PlayStation 4. Però l'Xbox One è sempre una gran bella console. Sì è andato che è una bella console. Abbiamo amici con l'Xbox e dicono che è proprio spacca. Però noi per gusti personali prestiamo la play anche perché abbiamo sempre avuto play. Ragazzi vi faremo sapere tutto nel prossimo video. Bella ragazzi. BOMBO CLAT.